Musica Sollecitano interventi urgenti di messa in sicurezza di alcune strade i residenti delle frazioni di Sant'Anna e Santa Lucia. A farsi portavoce delle istanze dei cittadini l'ex consigliere comunale Vincenzo Lamberti, che ha posto all'attenzione dell'amministrazione comunale lo stato in cui versano alcune arterie delle frazioni del versante nord-orientale della Valle Metelliana. Parliamo di via Giovanni Trezza in località Casella Inferiore, in particolare in corrispondenza di un ponticello che collega l'inizio di quella zona tra via Mielo Vitale, la località Casella Inferiore, via Giovanni Trezza, Lato Vallone c'è bisogno di un muretto, di una protezione maggiore, perché dalle foto è evidente chiaramente che c'è un pericolo concreto. Poi in generale lo stato di degrado in cui versi il territorio, le frazioni in particolare, ho segnalato in primis via Diego Pisavia in località Breccelle, la strada che conduce da un lato al parco di Ecimare, dall'altro lato al parco degli Olivi per intenderci, praticamente versi in uno stato rovinoso, ma di degrado assoluto come evidente. Questo da anni, poi con le piogge ovviamente la formazione di grosse buche, di fossi, quindi danni ai veicoli, non ne parliamo. Andrebbe rifatta completamente, quindi si auspica un intervento radicale su questa strada, ma almeno per il momento tamponare le buche che ci sono, che sono grosse ed evidenti. Poi ci sta l'altra situazione a Via della Quercia, che collega a località Caselle Superiore, dopo Via Lamia, alla Petrellosa. Quella è un'altra strada praticamente che spesso e volentieri nel tempo, negli anni, è sempre oggetto di richieste di interventi, perché ci sono, per non parlare di Via Vincenzo Senatore, in località Bagnana. Lì c'è un tratto ceduto da anni, sul quale è stato chiesto un intervento di messa in sicurezza, un muretto di contenimento del tratto ceduto, che è andato cedendo appunto su un terreno circostante, eppure lì rappresenta un pericolo costante, però ad oggi ancora nulla. Insomma, un po' di attenzione concreta, vera, sul territorio. I cittadini non chiedono grandi opere, non chiedono grandi interventi, non chiedono grandi cose, chiedono una semplice attività ordinaria di manutenzione, di messa in sicurezza, soprattutto di quelle arterie, di quelle strade che vengono comunque quotidianamente attraversate e che rappresentano un pericolo, un'insidia vera e propria.